Una festa di compleanno a sorpresa per Enrico Mintana. I suoi figli e la compagna Francesca Fagnani lo hanno sorpreso con regali e una torta in occasione dei suoi 69 anni. A immortalare il momento particolarmente emozionante è il settimanale Chi che svela in esclusiva che il direttore del Tg La Sette diventerà presto nonno. Il pranzo di famiglia si è svolto nel Centro Storico di Roma e al tavolo si sono seduti Stefano, 37 anni, nato dalla relazione con Fulvia Di Giulio, Alice, 32 anni, nata dalla relazione con Letizia Lorenzini del Milani, Giulio 17 e Vittoria 16 anni nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torre Padua, da cui si è separato nel 2013, e ovviamente Francesca, la giornalista e conduttrice di Belve, con cui fa coppia da circa 10 anni. Il 15 gennaio del 2024 Mentana però non se lo scorderà mai e non solo perché è stato il giorno di suo ultimo compleanno nei 60, ma perché Alice gli ha comunicato di essere incinta. Il noto giornalista quindi diventerà presto nonno e questo beh è stato un bellissimo regalo di compleanno. Al momento dell'arrivo della torta Mentana si è anche emozionato. Immancabili al tavolo anche i cagnolini della coppia, Nina e Bice, due cavalier King a cui Enrico e Francesca sono molto affezionati. Re al video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto. Grazie per la visione!